Estendere i controlli già attivi all'interno della stazione centrale anche alle aree limitrofe della città. È il piano del ministro dell'interno Piantedosi che con una nota fa sapere di aver chiamato il prefetto di Milano. In giornata ha previsto anche una telefonata al sindaco Sala che in un video sui social dice a Piantedosi chiederò più forze dell'ordine per la città. È un fatto assolutamente grave. Basta di me anche permettere che io non ho mai detto che non c'è un tema di sicurezza. Sala sfido chiunque a trovare le mie ritirazioni in questo senso. Ho detto e lo ribadisco che Milano non è in emergenza. Sala elenca i dati degli ultimi tre mesi in stazione 27.000 controlli, 337 denunce, 157 espulsioni, 32 arresti. Ma aggiunge se dopo i fermi le persone pericolose vengono rimesse immediatamente in libertà siamo punto e a capo. Sui fatti di ieri immediate le reazioni degli esponenti di centrodestra in testa il leader della Lega Salvini. Una notizia sconvolgente. La stazione centrale di Milano si conferma a grave rischio, ha detto. Andrea Mascaretti, deputato e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, accusa la giunta milanese di non aver fatto abbastanza. Lo scorso anno durante il bilancio l'amministrazione aveva approvato la proposta di Fratelli d'Italia di installare almeno 100 nuove telecamere proprio per presidiare la stazione centrale e invece questa cosa non è ancora avvenuta. La sicurezza della stazione centrale era stata un mese fa uno dei temi dell'incontro in prefettura tra il sindaco di Milano e la presidente del consiglio Meloni. Grazie a tutti.